SIGLA Papà, papà, sveglia! Signorina, arrivate i fax? Ma cosa fanno qui dentro? La famosa soap, tormenti! Le vedete al cazzo, va? Di quale polizia? Mi piace l'autoscovare. Tu e Dilip, qui ti è incessi. Non ho mai vista aperta, bellissima. Oggi nasce Italian Movis! Italian Movis, nuovi business. Italian Movis! Passa! Ma chi sono questi che ci pagano 5.000 euro? Sud-americani, gente ricca! Movis! Tutti hanno bisogno di rifrontare qualcosa di bello. Di sognare. Facciamo venire la gente qui a creare dei messaggi video. Facciamo un sacco di soldi. Un sacco di soldi! Ti rendi conto di cosa hai fatto? Sinceramente, no! E questo è soltanto l'inizio. Pagliare la sinistra! E ora! Un sacco di soldi! Hoi! Grazie.